So che gli unboxing non sono tra i vostri video preferiti ma questo devo proprio condividerlo con voi Arriva da Attiva SPA e contiene delle batterie, cosa sarà mai? Eccolo qui, Mavic 2 Enterprise Dual, pesante caspita, veramente bella valigia Essendo solo un unboxing andremo solo a vedere cosa c'è all'interno della scatola per il Mavic 2 Enterprise Dual Faremo un altro video dedicato ai vari stress test e magari anche con i test che andremo a fare domani Apriamo lo scatolotto e vediamo cosa c'è all'interno Il radiocomando classico come quello del Mavic 2 Pro Il drone è identico al Mavic 2 Pro e al Mavic 2 Zoom La cosa che ci interessa maggiormente è la camera Dual Eccola qua Con un sensore da 1 su 2 terzi di pollice come il Mavic 2 versione Zoom E un sensore termico con una risoluzione di 160x120 Cosa c'è ancora all'interno della scatola? Abbiamo il carica batteria Questo che cos'è? Cable box, quindi questi sono cavetti che vengono forniti con il drone Ovvero il cavetto micro USB Il cavetto USB-C E non c'è un cavetto Lightning Vediamo che cos'è questo adattatore che non riesco a capirlo Apriamo questo piccolissimo pacchettino Da micro USB a USB di tipo C Un altro cavo, una prolunga USB a USB di tipo C E i due stick, suppongo, extra Perché dovrebbe esserci Eccoli qua, ci sono gli altri due stick che sono già inseriti qua Vedo un cavo, eccolo qua il cavo Lightning No, 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 c'è il cavo Lightning Ed è già inserito all'interno del radiocomando Ma poi la cosa interessante di questo pacchetto Sono gli accessori extra Essendo un Mavic 2 Enterprise All'interno della scatola troviamo anche kit Che comprende l'accessorio lampeggiante Che comprende l'accessorio riflettore E che comprende l'accessorio altoparlante Nulla, questo è stato un video super veloce Veramente, volevo solo farvi vedere che era arrivato il pacco Non stavo più nella pelle Non riuscivo più a tenere questo segreto Domani andiamo a fare i primi test Quindi state connessi al canale Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto E attivate la campanellina Perché a brevissimo faremo i primi test Con la termica Con... non vi svelo niente Non vi svelo niente Non vi voglio dire nulla Seguitemi e io vado ad attivare il drone Ci vediamo con il prossimo video Ciao!